Ciao a tutti, sono il maestro Alessandro Santagati e in questo video vedremo una partita tra Moisenko e Lu in cui il bianco è giusto D4 in F5 è dunque difesa olandese alfiere G5, G6 cavallo C3 chiaramente per sviluppare i pezzi di controllo nel centro cavallo F6, H4 un mostro molto interessante è che l'idea di coprire la casa G5 ed eventualmente poter spingere in H5 per attaccare il lato di re H6 e a questo punto il bianco prende in F6 indebolendo la struttura solo di re cavallo H3 è molto interessante per poter andare su F4 dove può attaccare la debolezza e a questo punto H5 con l'idea di bloccare il pedone in H cavallo F4 e qui è molto difficile difendere il controllo di G6 l'unica sarebbe forse torre H6 ma è sempre molto passiva dunque Lu decide di difendere con il re dunque Rf7 E3 logica perché permette alfiere C4 che può attaccare direttamente da re in questa posizione Shanglei Lu commette un errore decisivo diciamo l'unica alternativa per il nero è cercare di chiudere la diagonale giocando C6 con l'idea di poter spingere in D5 cosa che il bianco avrebbe impedito giocando D5 a sola volta però è comunque più facile difendere perché comunque per il momento la diagonale rimane chiusa invece il grande maestro Lu ha giocato alfiere H6 e a questo punto il bianco cioè Moisenko ha vinto con una brillante combinazione alfiere C4 scacco il re deve muoversi su G7 perché deve difendere il pedone G7 il pedone G6 dunque re G7 e a questo punto il bianco gioca cavallo per G6 una mossa davvero bellissima perché dopo la presa del cavallo il prediente è quasi forzato perché comunque se no vai in una posizione inferiore arriva la donna per H5 un certificio di donna davvero molto brillante da parte del bianco se il nero prende la donna c'è matto forzato perché arriverebbe alfiere F7 scacco unica re G4 e poi torre H3 con la semplice idea che dopo F3 c'è matto dunque qualsiasi mossa gioca per esempio alfiere per F3 unica re F4 cavallo D5 scacco matto se per esempio gioca F4 cercando di dare una casa di fuga da re a quel punto F3 re F5 e 4 matto dunque dopo donna per H5 la partita del prediente è perso ormai per il nero avendo visto il matto sulla presa gioca re H7 donna F7 scacco alfiere G7 unica per pararsi cavallo D5 per raggiungere un nuovo attaccante minacciando F6 e minacciando anche E7 a questo punto torre F8 donna F5 scappo unica coprire perché andare in G8 significa prendere matto con la scoperta e dopo donna per F5 re H8 rientra in questa posizione dove la difesa è praticamente impossibile il nero gioca alfiere G7 dopo donna F5 il nero abbandona perché su reggio 8 chiaramente c'è matto in una dunque partita molto interessante giocata da Moisenko con l'attacco Opton dunque è vero una partita molto carina e per questo video è tutto e vi do appuntamento per il prossimo ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video grazie grazie a tutti grazie a tutti